una roba che io mi sono sempre chiesto Eni tra l'altro è nel senso noi siamo social addicted noi io te lavoriamo molto con i social ma una persona quando entra all'interno della casa e si vede sottratta il suo cellulare per tre mesi quando esce e gli ridanno il cellulare la prima cosa che fa come lo trova chiama mamma o controlla i follower su Instagram che succede? io vi dico una cosa assurda che io quest'anno il cellulare ce l'ho avuto ben poco perché mi sono fatta due reality in pochi mesi quindi veramente quest'anno il cellulare è proprio poco però quando mi hanno ridato il telefono a parte che l'ho visto non mi è mancato proprio per niente ma penso che lo diranno tutti che lì dentro pensi a tutto tranne che al telefono anzi noi spesso ci giocavamo sul fatto ma il telefono ma com'è fatto ma ci ricorderemo i pin tutte queste cose quando mi hanno ridato il telefono io onestamente ho chiamato a mia madre quindi non ci ho pensato proprio al fatto di Facebook e Instagram hai detto mamma qual è il pin? gli hai detto perché giustamente non lo ricordavi manco tu ma ragazzi ma è una sensazione stranissima eh quando mi hanno ridato il telefono ero veramente spesata perché pensavo poi vabbè una serie di emozioni una dietro l'altra ma una appena eliminato poi c'era stata la proposta poco prima e entrare in studio rivedere tutti poi no ragazzi io stavo veramente oddio ma scusa ma quando te l'hanno ridato? l'esperienza detox a tutti gli effetti quando te l'hanno ridato? la sera stessa o quando è che ti hanno ridato il telefono? me l'hanno ridato una volta che è finita la puntata che mi hanno ridato tutte le mie cose mi hanno ridato il telefono cioè capito? capito? è tanta roba eh ragazzi è tanta roba fidatevi no è un'esperienza detox a 360 gradi cioè nel senso vai là sì ragazzi detox solo dei social perché poi i detox e niente ce la mangiamo la detox la detox